Gravissimo incidente ieri 27 settembre a Marcellinara nella provincia di Catanzaro. L'incidente mortale è avvenuto sulla strada provinciale in direzione Tiriolo. Nello schianto sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. La donna alla guida dell'auto, una quarantenne, è morta dopo essere stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale. Sul posto il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per tutti i rilievi del caso. La donna alla guida dell'auto.